Un imprenditore cinese di 48 anni è stato arrestato dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nel quartiere La Maddalena per un tentativo di corruzione durante un sequestro nei suoi confronti di capi di abbigliamento contraffatti. Le fiamme gialle hanno prima riscontrato che all'interno erano presenti scarpe con marchi contraffatti, successivamente hanno esteso le attività svolgendo una perquisizione nei locali commerciali del cinese. Rinvenute in tal modo centinaia di migliaia di scarpe ed etichette con noti marchi contraffatti, negli stessi locali scoperto anche il vero e proprio laboratorio del falso, utilizzato per la produzione illecita delle scarpe. Durante le operazioni di controllo, il titolare del negozio, nel chiaro tentativo di corrompere i finanzieri, ha infilato 850 euro in contanti nella tasca della giacca di uno dei due, esclamando «Prendi questi soldi e non sequestrare niente, andatevi e prendetevi un caffè». Le fiamme gialle partenopè hanno proceduto all'immediato arresto per isticazione alla corruzione dell'imprenditore, denunciato anche per contraffazione e ricettazione, nonché al sequestro di oltre 140.000 tra etichette e scarpe sprovviste di qualsiasi certificato di conformità.